Bella raga, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Ascoltatemi bene ragazzi, piccola parentesi prima di iniziare il glitch. Come ben vedete questo è il mio carretto antiaereo e con questo carretto raga avevo moddato il mio com. Come ben vedete il com è smoddato perché? Perché dopo il DLC raga Rockstar ha tocchignato qualcosa e ha rotto il com. Quindi non toccate nulla finché non vi diciamo noi youtuber qualcosa. Mi raccomando perché se andrete a rimoddare il vostro com raga perderete tutti i veicoli che avete nel gioco e penso che non è proprio il caso. Anche perché puoi contattare Rockstar e dire stavo moddando il com ma avete cancellato i veicoli non so quanto vi daranno indietro le macchine. Comunque requisiti per fare questo glitch, cartuccare in solo auto officina, rientro dentro al bunker ragazzi oppure entrate nel bunker e uscite. L'importante è che passate dal bunker. A questo punto vi teleportate alla vostra auto officina o ci andate con una macchina o un qualsiasi veicolo e una volta che siamo all'interno dell'auto officina fondamentale dobbiamo diventare membri o del CEO o del sicuro server tramite diventa capo la nuova opzione che troviamo. Quindi a questo punto decidiamo la macchina da cui prendere le modifiche. Io userò questa ragazzi. Una volta che ho scelto la macchina ci sono salito, freccia destra per fare una modifica, ci facciamo una modifica raga e torniamo a posto. Quindi a questo punto come sempre andiamo a chiamare Tony. Una volta che abbiamo chiamato Tony e abbiamo richiesto l'attività e in basso a destra abbiamo il timing dell'attività dobbiamo andare a cliccare la freccia destra sugli snack ragazzi. Quindi una volta che abbiamo cliccato la freccia destra dagli snack e siamo col menu degli snack aperto, in questa schermata dobbiamo partecipare su qualcuno che sta in mira diversa da noi. Quindi se siete in assistita raga partecipate su Anawak, se no trovate qualcuno che abbia la mira differente. E a questo punto accettiamo il primo messaggio, rifiutiamo il secondo messaggio e ci siamo buggati. Andiamo dal veicolo ragazzi, clicchiamo freccia destra e sbada bam. Allora raga, dovete aspettare 19 minuti per forza per comprare il veicolo oppure invitate un vostro amico all'interno dell'agenzia e glielo fate comprare a lui e poi se lo fa passare. Quindi lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, supportate il canale. Mi raccomando ragazzi di account a 30 euro ancora disponibili e alla prossima shbada bam.